Nel 70esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo in Europa, numerosi documenti relativi alla deportazione e gli stermini avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale sono diventati consultabili anche in archivi digitali online, grazie alla piattaforma telematica Tracce di Memoria. L'iniziativa, presentata a Palazzo Lascaris, è promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione.